Ciao a tutti, allora oggi mi sto sedendo qua a fare un po' di video, il primo dei quali sarà quello sul Cosmoprof Ho ancora le cose da mettere a posto, ho ancora le idee abbastanza fresche, quindi devo farlo assolutamente adesso per non dimenticarvi niente Prima che, vabbè, sul viso non ho niente di particolare, sulle unghie invece ne parlerò in un altro video Quindi, qua non entrerò nei dettagli, comunque è un semi permanente, ma vi spiegherò meglio in un video a parte che ho intenzione di girare anche questo oggi Allora, questo è stato il mio undicesimo Cosmoprof, considerando che 2020-2021 non si è fatto niente O meglio, nel 2020, se non sbaglio, c'era stata una versione, diciamo, digitale del Cosmoprof Devo dire, l'idea è molto carina, perché comunque c'era una piattaforma in cui le aziende li potevano contattare E voi facevate poi una call online e poi loro vi presentavano le novità Io l'avevo fatto con Equilibra, è un altro brand di cui non mi ricordo, quindi non mi era rimasto particolarmente impresso Comunque, quindi questo è stato il mio undicesimo Cosmoprof E se mi seguite da un po' sapete che io ho sempre fatto tanti giorni di fiera, tutto il giorno Almeno due volte ho fatto cinque giorni, altre volte ho fatto tipo quattro o tre Sia l'anno scorso che quest'anno ho fatto un giro veloce Allora, forse quest'anno rispetto all'anno scorso mi è piaciuto di più Non so dirvi esattamente, no, perché ve lo so dire Uno è perché, no beh, scherzo Perché c'era Luca Gervasi E beh, scherzo ma neanche tanto In realtà mi ha fatto un sacco piacere vederlo, se non lo seguite su Instagram È quello del gatto Allora, parliamoci chiaro È un bono illegale È un ragazzo bellissimo Dal vivo Tanta, 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 tantissima roba E ha questa gatta fantastica che si chiama Belen E io vi devo dire Allora, io se proprio devo dire un debole per gli uomini in generale Vabbè, tanto fisicamente come lui sì, sicuramente Ma se io vedo un uomo che per giunto è così bello Che tratta la sua gatta in quel modo Quindi se la spupazza, eh Io proprio Addio Ornella Cioè, quello è proprio il mio sogno ideale di uomo Però, al di là di questo adesso Vi posso dire che dal vivo è stato di una carineria incredibile Cioè, non che non me lo aspettassi Però vi posso garantire che dal vivo è anche È stato anche più carino e più dolce Di come si possa immaginare, insomma Quindi può piacere o meno i contenuti che fa, eccetera Ma diciamo che continuerò a seguirlo per affetto E poi è un gran bel vedere Questo lo possiamo dire Scusate se mi perdo in questa chiacchiera Però in realtà Lui è stato veramente molto disponibile con me Vero che allo stand non c'era In quel momento granché Poi sono stati Lui addirittura mi ha detto Se ci sei Dopo chiaravo ancora un po' Perché doveva fare delle cose Ho detto No, no, ma figurati Cioè, ti lascio lavorare Cioè, lui era lì per lavoro ovviamente Però una cosa che io ho detto E poi mi è venuta in mente In quel momento lì Ho detto Visto che tu hai questa visibilità Soprattutto per chi ama i gatti Io ho girato il mio video sulla FIP Perché l'altro giorno Tre giorni Quattro giorni fa Mi ha scritto una ragazza Che è arrivata al mio video su YouTube E da lì ha scoperto della cura Cioè, capite quanto sia importante questa cosa Quindi io gli ho girato il mio video E gli ho detto questa cosa Il messaggio l'ha visualizzato Poi non so se lo guarderà Se l'ha guardato Magari può diffondere Cioè, non mi interessa Che faccia Che mi faccia arrivare follower Figuratevi Poi non è che Penso che abbia il target Che possa interessare me Non è quello Però se può arrivare A più persone possibili Alle orecchie Il fatto che esista una cura Per la FIP Ben venga Comunque A parte Luca Avevo un appuntamento L'unico appuntamento Che avessi Ne avevo due in realtà Però Equilibra Non c'è stato modo di Sono andata Ma Patrizia La PR era impegnata Poi Ho detto sinceramente Io anzi L'ho detto anche a lei Ho detto Guarda io passo a salutarti Però Allora Integratori di Equilibra Per ovvi motivi Non mi interessano I prodotti viso Devo essere sincera Al di là del fatto Che uso la Skincare Fitline Ma comunque Quelli di Equilibra Non è che mi avessero fatto impazzire Potreva interessarmi Qualche prodotto Per il corpo Quello si Anche perché Devo dire che Non sono male I fanghi ottimi I scrub ottimi Quindi si Però alla fine Non c'è stato modo Di parlarci E poi avevo Un appuntamento Con un'azienda Che appena viene fuori Il sacchetto Dalla busta Ve lo dico Quindi io pesco Esattamente come sono Qua dentro Così vado Un po' a ricordi Allora Questa cosa L'ho presa Uscendo dalla fiera All'entrata C'era questa Questa bull Questa Ciotola Grande Con confezioni C'erano sia singoli Che le confezioni intere La gente prendeva Le confezioni intere Non vedo per chi Dovessi fare Diversamente Comunque sono Dei jelly Gelizzanti Per le mani Adesso lo apro Con voi Perché sono curiosa Come una scimmia E sono Made in South Korea Ecco Se proprio vi devo dire La cosa che Mi è piaciuta di più Ma non avevo dubbi Sono stati Stend coreani I coreani Si sono rivelati I rassoluti più gentili Ma quanto sono carini Cioè guardate Tutta la confezione Di così Ma troppo carini 70% di etanolo Menta Fa anche lo stesso gusto Menta Sì Tutti alla menta Quindi ho beccato Quella la menta Benissimo Perché mi piace tantissimo E per l'estate E per l'estate va bene Fantastico Si chiamano Boh Come si chiama L'azienda Io qua vedo scritto Seven days Clean Clean and easy Comunque Al di là di tutto Io ho un giro al Cosmoprof Lo consiglio comunque Se avete la possibilità Perché Adesso questa è una cavolata Però questi erano Alla portata di tutti Non è che Le hanno regalati a me In quanto Influencer Che Avevo la Credito Influencer Ma questa cosa Fa sempre molto ridere E comunque Io ho detto Quando mi chiedevano Ma tu cosa sei Cosa fa Cioè Sei estetista Sei così gola Io rispondevo La prima volta E istintivamente Ho risposto youtuber Che non è sbagliato Di per sé La seconda volta Ho risposto content creator Che secondo me È la risposta più giusta Perché al di là Dei video Che fatti così Per chiacchiere Comunque creo contenuti Tipo Quello che farò tra poco Sarà un contenuto Su un prodotto Per i denti Che mi è stato inviato Quindi Secondo me Era la cosa più giusta Allora Poi Allora Questo è uno Dei miei Due acquisti Che ho fatto in fiera Da un lato So di aver comprato Credo Potenzialmente Una figata Dall'altro Potrei aver fatto Una cazzata E questa l'ho realizzata dopo E adesso vi spiego il perché Allora Il marchio si chiama Win G Dry Foot Exfoliator Allora Che cos'è Allora Intanto Sono scritto per i piedi In realtà Io l'ho preso Anche per le mani E questo affare qua Che serve per Esfoliare le zone secche Lui Allora Siccome lui mi ha fatto In realtà una prova Proprio sulla zona secca Qua vicino Nei lati delle unghie Che in effetti È la mia Come dire La mia Il mio punto debole E soprattutto Io ho il mio punto Debole qua Mi si secca Da morire E io cosa faccio Ci gioco E mi spello Allora Questo coso qua Praticamente Poi lo passate Così E vi esfolia A secco Quindi da asciutto La zona secca Diventa liscissima E smettete di giocarci Ora Perché vi dico Forse ho fatto una cavolata Perché sto coso L'ho pagato La bellezza Di 15 euro E loro avevano Sia questo Che anche la lima di vetro Aspettate Però non è la lima di vetro Che voi immaginate Per limare le unghie Ma è una lima particolare Che serve Per lucidare la superficie Io quella lima lì Ce l'ho L'avevo presa Su YesStyle Se non sbaglio E vendevano Quella singolarmente Questo singolarmente Oppure C'era una cosa simile Ma con Un lato Con questa lima lucidante Che costava di più Siccome io quella cosa lì L'ho pagata sicuramente Tipo meno di 2 euro E io Quella la vendevano Non mi ricordo a quanto Io sono sicura Che io una cosa simile La trovo A molto meno Quindi Questo per dirvi Vi metterò Cerco sicuramente Lo trovo Vi metto un link Dove possiate pagarlo Molto meno Però vabbè In fiera si dovrebbero Fare gli affari Però vabbè Poco male Se magari è servito Per farvi scoprire Questa cosa Per me è una figata Pazzesca In tutto ciò Stamattina sono andata a fare Per la prima volta Nella mia vita Una pedicure Cioè nel senso Io i piedi ogni tanto Me li curo ovviamente Ma pedicure estetica Non l'avevo mai fatta E ho scoperto C'è un piccolo salone Qua vicino a casa mia Di cinesi Credo sia abbastanza nuovo Perché o non ci ho mai fatto caso Oppure Dove ieri sono andata a fare La manicure Solo la manicure Lo smalto Poi l'ho messo io Perché ero talmente messa male Che ho detto Vabbè Meglio farmela fare E mi è piaciuta E mi è piaciuta moltissimo Per cui mi sono decisa E ho fatto la pedicure E ho fatto benissimo A parte che ci ha messo Un'ora E dieci Tipo Sono stata lì Bellissima Comunque Vado avanti Allora Prodotti ne vedrete pochi Ah questa è la brochure Ma tanto vi ripeto Cioè secondo me Ne ho pagati troppo C'era anche con il manico Vedete In veri formati Figata comunque Figata Assolutamente Prodotto da avere Secondo me è comodissimo Allora Questi Ogni anno In realtà L'ho preso per la shop Perché ce l'ho già E la amo Poi dentro ci mettono Sempre anche dei campioncini Shampoo E maschera E mi ricordo Di averli provati Provati che non mi erano piaciuti A meno che questi Non siano diversi Però L'ho fatto per la shop Perché è bellissima E la uso Poi Era questo Sì Sì Allora Questa qui è stata Una delle cose Secondo me Più particolari Sono stati gentilissimi A proposito del discorso Che dicevo prima Dei coreani Io diciamo Che mi sono fermata Più prevalentemente In quelli Che magari Mi sembravano Alla vista E poi magari Ce ne saranno stati Altri interessanti La maggior parte Li ho beccati Con qualcuno Che parlava italiano Cosa che ho trovato Fantastica Comunque Poi questo stand In particolare Il ragazzo Che era coreano Ma parlava benissimo Italiano Una pelle Che non ve lo dico Cioè Io ero andata così Io ovviamente Ruffieravo tutti Parlando del fatto Che uso Protezioni solari coreani Anche qualcosa Di skin care Che è vero Non è che ho detto Una fesseria Però ovviamente Si illuminavano Giustamente Allora Mi hanno dato Questi campioni Non sono niente di che Uno è Questa Total care cream Che mi hanno detto Una crema Che va bene Un po' per tutte le parti Del corpo E poi Questa Bustina qua Che dentro C'è una maschera Credo in tessuto Si Night mask Da fare la sera Qual è la particolarità Ve lo faccio vedere Questo brand Che è Come si chiama Sturgeon bio Dovrebbe chiamarci Si Chiamarsi Sturgeon 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 Non lo so Come si pronunci Comunque Olio di storione Di un pesce Quindi non è Ovviamente Vegano Però Mi aveva Si Interessato Intrigato Per le caratteristiche Mi hanno detto Che è un loro Brevetto Si chiami così O trademark Non lo so Comunque Ecco Una cosa Abbastanza Particolare Poi Nello stand A fianco Mi sa Si era Proprio Quello accanto Mi hanno dato Come omaggio Questa Contact sponge Che io in passato Ho usato Devo dire Che non mi dispiaceva Neanche Vivi Bet Si dovrebbe chiamare Ma Non Sinceramente Non vi so dire Nulla di più Se non Questo Non so altro Perché Ecco qua Italiano C'era un ragazzo Che lo parlava Ma In realtà Lui dell'azienda Non sapeva Granché Quindi io Ah no Aspettate C'è un motivo Per cui Questa L'azienda Qua mi interessa E l'andrò A cercare Perché Ho chiesto Io praticamente In tutti gli stand Coreani Chiedevo Avete una Sunscreen Una protezione Solare Ecco Loro ce l'avevano Purtroppo Non la vendevano Altrimenti L'avrei comprata Immediatamente Questo marchio Questo marchio qua Se trovo Un link Ve lo lascio Perché La loro protezione Solare Sulla mano Era Favolosa Favolosa Almeno A una prova Così Quindi Sono curiosa Di provarla Ecco qua C'è L'unico appuntamento Che ho avuto Però vado avanti Un po' Con Le canfrusaglie Questo che No Questo è solo Non so neanche Se c'è un campione Dentro Paul Penders No C'è solo un portachiavi Inutile Sì vabbè Vi mollavano Ste cose Inutile Questa ecco L'unica cosa Che a me spiace Tantissimo Nel Cosmoprof È Lo spreco La quantità Di spreco Di Tutto quello Che riguarda Carta Shopper Incredibile Cioè Almeno Queste qua Hanno senso Perché sono Riutilizzabili Io sicuramente Le utilizzo Quindi Così Però vabbè Poi c'era sto brand Che vabbè Da lontano Mi sembrava Una roba innovativa Invece ho visto Che c'è stato Molto il trend Di questi Roll on Che assorbono Il sebo Quindi quest'altro Non era che Poi non c'è qua La confezione Ah sì No Non si vede bene Vabbè Comunque Altro non erano Che dei roll on Che assorbono Il sebo Ma adesso Starà andando Molto di moda Io non ho sebo Da assorbire Quindi Me ne faccio poco Comunque Ah ecco Lo stavo trovando All'altro Mio unico acquisto C'era lo stand Di Infinity Allora Siccome a me Mica Laura Mi aveva regalato Una matita Di questo marchio Di questa stessa linea Ovvero Queste automatiche Waterproof Ma Ah ok Avevo paura Avesse sbagliato colore Ecco Perché fuori All'altro C'è segnato il colore Comunque Ne ha regalato La matita marrone E io ho comprato Questa blu Perché è veramente Un bellissimo tono Di blu Stupendo Non so se la renda Sì Comunque una bella stesura Adesso vediamo Come si comporta Quindi vi faccio sapere Poi mi ha dato Un campioncino Del fondotinta 16k Che dovrebbe essere Non ho capito Se ci sono più colori Di questo Comunque mi ha provato Il test sulla mano Devo dire che era Molto carino Lo proverò E poi vi faccio sapere Devo dire Allora Questo marchio Nelle vecchie Proprio mi faccia fare I Mugolì Diciamo così Interessante Ma Tipo le palette Sinceramente Non mi piacevano Altre cose Che mi interessino Non c'erano Forse Cioè il fondotinta L'altro fondotinta Io l'ho provato In campione Sul viso non mi piace Però mi piace Per il contorno occhi Però Vate a comprare Un boccione di fondotinta Del campione Che ho Che mi ha dato La mia amica Mi durerà per la vita Poi Qua mi fa ridere Perché Mi hanno dato Questa cosa Io non so cosa sia Propoli Ma Sì È da bere Ho capito Poi me lo studio Però Non è che mi Mi ispiri È uno sciottino Praticamente C'era anche Uno sciottino Al collagene Questa è alla propoli Ah nello stand Qua dell'uovo di storia Mi avevano dato Una specie di Sembrava un cioccolatino All'apparenza Ingannevolissimo Un sapore Terrificante Infatti il tipo Mi ha detto Se non ti piace Dimmelo Che ti do Un faccio E ho detto Che dovrebbe dare energia Non mi aveva dato Che neanche Però Per educazione L'ho accettato Perché era così carino Che non ho potuto rifiutare Poi All'erbolario Vabbè Dei campioncini Di questa linea La verbena La nuova profumazione Che devo dire Mi è piaciuta tantissimo L'ho provata Sul polso Così E c'è il profumo La crema corpo Il bagno schiuma Perfetto Mi potrebbe interessare Il bagno schiuma Perché devo dire Che fra tutte le cose È il prodotto Che più apprezzo È l'erbolario Il bagno schiuma Mi piacciono moltissimo Poi Tu che sei Skin Ah Per dire Allora Skin 1004 Anche qua Non c'entra niente Il canale Né niente Sempre coreani Se non sbaglio Adesso ve lo dico subito Sì Made in Corea Cioè Questi Vi davano La shopper Con questa taglia Neanche piccola Perché secondo me Sarà Un po' di ml Ho visto che vendevano Dei formati più grandi Ma questo non è piccolo Anzi Oh a voi Se è bella grande Ma non ci sono scritti I ml Comunque è bella grande Ed è un ampoule Quindi praticamente L'ampoule è Qualcosa che è Più di un siero Nella routine Nella routine Coreana Tra l'altro È di plastica Sì di plastica È calmante Idratante Alla centella asiatica Che era la Loro diciamo Caratteristica Di questo brand Madagascar Centella del Madagascar Tra l'altro Ah 30 ml Sono che scema Non riuscivo a vederla Comunque Ingredienti Estratto di centella asiatica 100% Cioè Questa cosa qua È preziosissima Vado a cercare Anche l'oro Skin 1004 1004 Perché Secondo me Sono interessanti Me lo vado a studiare Un pochino Poi 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 Altre brochure Qua cosa abbiamo Poi arrivi a un punto Che butti nel sacchetto E non sai neanche Quello che ti hanno dato Ma questo Non dipende Cioè A volte non dipende Da te Veramente te li lanciano Addosso Quindi tu arrivi a casa Con delle cose Non sai neanche cosa siano Tipo questo Intensi Tabita Intensive infusion Caviar oil Quindi olio di caviale Ma io se mi chiedete Cosa serva Non lo so Adesso vedo Se da qualche parte Qua c'è Il La brochure Ah eccolo 99,92 Fermentato Olio di Olio di caviale Naturale Fermentato Antiossidante Aiuta a proteggere La pelle Crea Un Bla 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 Comunque Magari lo proverò Per il contorno occhi O del contorno Io lo userò Perché magari Era una cosa Anche abbastanza Particolare Poi avevo Questi campioni Di questo brand Nutexture Si chiama Di dove sono loro Secondo me Io praticamente È made in Corea Vabbè Se avete capito Che mi sono fermata Solo lì praticamente E sono tre sample Di Hydrating gel cleanser Ma sono uguali Sì sono tutti e tre uguali Quindi Comunque si riuscirà A provare Ma sembra Cioè il campioncino Sembra pochissimo Ma Comunque Si riesce Se riuscirà a utilizzare Questo non so cosa sia Questo qua Mi hanno regalato Un adesivo Che sembra un francobollo Carino Ma non so che farmene Qua c'è il profumo Che si sente ancora Veramente buono Mi piace Fresco La verbena Un adesivo Un adesivo Reusable make up Remover pad C'era anche C'era anche Aava Che mi hanno dato Questa shop Stupenda Che riutilizzerò Allora Io mi sono fermata Perché il brand Mi piace tantissimo E ho chiesto Un po' Devo dire Un po' Disorganizzati Secondo me Gestito un po' Così Un po' Dove essere sincera Però Io ero curiosa Mi sono fermata E ho chiesto Avete delle novità Presentate qua Delle cose nuove Insomma C'era questa linea Che io non conoscevo Poi non so Quando sia uscita Onestamente Non mi è stato Non me l'hanno saputo Neanche spiegare E quindi Insomma Alla fine Vabbè Della fiera Che fari dalla fine Della fiera In questo caso Mi hanno dato Questi Tre prodotti Di questa linea Dead Sea Naturals By Aava L'unica cosa Che mi hanno saputo Dire È stato Che è una linea Più economica Quindi Aava Ha un Diciamo Come dire Un Press point Come viene detto Più alto Però io ho chiesto Ma qual è la differenza Allora Perché ho chiesto Sono comunque Fatti con Lo smother Che è il Brevetto di Aava Mi ha detto di sì Ma io qua Non lo vedo scritto Da nessuna parte E solitamente Loro lo scrivono Comunque È fatto sempre Nella stessa sede Quello sì Però Boh Io lo andrò a vedere Comunque mi hanno dato Lo shower gel Quindi il bagno schiuma La crema mani E la crema viso Bah Vediamo cosa riuscirò A provare Però Cioè Non è che Me hanno proprio Bah Vabbè Gestione pessima Ok L'unico Non l'unico L'invito L'uno degli inviti Che avevo ricevuto È stato da questa azienda Che si chiama Biselfie Non so se vi ricordate Ma un po' di anni fa Loro erano in fiera Con i patch Per gli occhi E per le labbra Se non ricordo male Che sono dei patch Che Hanno tipo Questi micro aghetti Che poi veramente Non sono Proprio degli aghetti Comunque Che vi vanno A veicolare Meglio Il principiativo Mi sembra Di aver avuto Un campione L'anno scorso Ma Non sono sicurissima Vediamo Se c'è qua Ah no Loro No Loro mi sa che Mi ha dato Soltanto La brochure Che poi adesso Sto vedendo Che la brochure Ce l'ho doppia Va bene Ok Quindi vi davano Solo la brochure Ok No vabbè Comunque Ho fatto una chiacchierata Con la PR Che mi aveva appunto Invitato E Non so Adesso vediamo Perché se mi trovo bene Magari potremmo avviare Una collaborazione Futura Intanto Parlando così Ho pensato Che il prodotto Diciamo Più interessante Da provare Per me In questo momento Fosse questo Perché nel frattempo Ecco Non vi ho detto Che da allora Sono usciti altri prodotti Io onestamente Non li ho più seguiti Vi dico la verità Me li ricordavo Ma non li ho seguiti Allora Loro Avevo visto Che si facevano Sponsorizzare molto Da Influencer Cioè quelli veri Influencer Non sono un influencer Sono una piccola Content creator Un po' diverso Il discorso Quindi non è che Li avessi proprio Diciamo seguiti Però Questo In realtà hanno fatto Una serie di prodotti Che sono molto vicini Alla medicina estetica Ecco Per cui Ovviamente Questa cosa Mi aveva Intrigato parecchio Allora Il kit che andrò a provare Io è questo Si chiama Deep tensor Intensive lifting effect In pratica Adesso ve lo dico così Perché non mi ricordo Benissimo Comunque già Qua si interavede Qualcosa Ci sono questi microghetti Da 05 Per farvi capire Come un dermaroller Però Questo ovviamente È fatto apposta La differenza È che Questi microghetti Che vi faccio vedere Qua in foto Il principiativo Il principiativo viene veicolato Dall'interno del microghetto Quindi non è intorno Quindi arriva direttamente Fatto apposta Per essere Monouso Mi sembra di ricordare E quindi Anche senza rischiare Di infettare Infezioni Sapete che queste cose Vanno Infatti sì Due siringhe Monouso C'è scritto A somministrazione Controllata Per evitare appunto Di fare questa cosa qua E questo qua Effetto lifting Quindi Ovviamente Ero interessata a questo C'era anche Un altro kit Quello con la carbossiterapia Che mi interessava Però Quello gli serviva più A purificare Io sinceramente In questo momento Non ho molto Da purificare Quindi mi sembrava Un po' Cioè Dovendo scegliere Ho preferito questo Ma c'è anche questo Che mi interessa Che si chiama Deep DNA RNA Sarai il nome Che mi ispira Però Per la rigenerazione Io Guardate Spero tantissimo Di trovarmi bene Sicuramente Faccio un video In cui lo provo con voi Ovviamente Ne vediamo un po' L'efficacia E eventualmente Io spero Di collaborare Di trovarmi bene Poi mi faranno Eventualmente Un codice sconto Poi vediamo Intanto Questo è tutto Mi sembra Di avervi raccontato Tutto Sono rimasta Un po' Delusa Dalle unghie Ero andata A diretta Per un marchio Di semi permanenti Ma non l'ho trovato Nel 36 Padiglione 36 Devo dire che Non l'ho capito Quest'anno Era un po' Mischiato C'erano molti meno Stand di unghie Ma molti meno Forse per quello Hanno cambiato un po' Le carte in tavola Mancavano tantissimi Brand Io non ho visto Fabio Pi Dai Non ho visto CND Boh Cioè me ne mancavano Tanti Alcuni tipo Orly Che aveva anche Lo stand di solito L'al 36 Aveva solo un piccolo stand A un altro padiglione Quello straniero Quindi sì Secondo me Molti Molti marchi O hanno rinunciato Un po' Al Cosmoprof Persino Elgon Che di solito Aveva uno stand Enorme Bellissimo Sto giro Aveva qualcosa Ma era Riunito con altri brand Credo Dello stesso Gruppo Immagino Mentre c'era Moroccanoil Grande assente Degli ultimi anni Aveva un bellissimo stand Dove facevano anche Degli show Però A parte non regalavano niente Vabbè Ma secondo me Si sono indebitati Negli anni precedenti Ma io dico C'era anche una idea di mezzo Comunque Vendevano qualcosa Ma purtroppo Avevano pochissime referenze E non c'era quella Che volevo io Volevo lo shampoo e balsamo Volumizzante C'era quello normale E io non lo volevo Il prezzo era buono Ma non mi interessava Quella tipologia là Basta Mi sembra di avervi Detto tutto Questo Per questo Cosmoprof È tutto Ci vediamo sicuramente L'anno prossimo Finché mi fanno l'accredito Io vado volentieri Onestamente Ricevendo l'accredito Sarebbe anche Uno spreco Non andare Qualcosa Qualcosa di buono Potrebbe sempre Venire fuori Con questo finito Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Autore dei sorrisi